Era quasi buio. Un fanciullo correva per le viuzze strette sconnesse dello scarrone, la parte più vecchia dell'abitato di Accettura. Quasi investì la comara rosa, ehi Giuliano, sempre come il vento, dove stai correndo? Neanche la sentì, era già svoltato oltre la chiesa grande. Risistemò con la mano destra il fazzoletto scuro che le avvolgeva la folta chioma, riprendendo il cammino verso casa, sottovoce, tra sé. «Tutto sua madre, una tempesta!» Vestito di cenci rattoppati, con il fiato alla gola, la creatura giunse precipitosamente in piazza. Salì nello studio del medico condotto, ma Don Salvatore non c'era. Seppe che era solito passare dal caffè proprio sotto lo studio a fare qualche mano di scopa con gli amici, correva il 12 dicembre del 1931. «Era ormai sera, quando dalla finestra sentì urlare, si affaccia». «Sto delinquente ti farò ricordare San Giuliano. Chi ti ha imparato a fare queste cose? Noi ci ammazziamo per stare a faccia con i cristiani e tu ci fai fare solo brutte figure!» Era la commara rosa che aveva afferrato il maglioncino di Mimì con la sinistra e con la destra a mano aperta l'omenava. Il piccolo, piegato e con le mani a protezione dalla nuca, piangeva e mentre le lacrime si mischiavano il muco, borbottava. «Non lo faccio più! Mi faceva fame!» «Comara, basta! Che se no lo uccidi!» Intervenne Cherubina, che nel frattempo l'aveva raggiunta per tentare di carmarla. Liberò il piccolo cercando di consolarlo. «Vieni con me! Ho una cosa per te!» «Povero figlio!» «Povero figlio!» Ribatté la commara rosa, ancora infervorata. «Se lo fa di nuovo mi faccio il segno della croce e lo levo dal mondo!» E mentre Mimì rimaneva ben aggrappato alle vesti della vedova per scongiurare un'eventuale seconda ondata di schiaffoni, quest'ultima. «E cosa avrà fatto?» «E che cosa avrà fatto di così male questa creatura?» «Che ha fatto?» «Stamattina, dopo che ho quagliato, l'ho comandato di portare la fuscella di ricotta a donna Cristina Spagna, che si merita, perché ci chiama spesso a lavorare. Lo schifoso, sa chi ha fatto? Ha svuotato la fuscella, si è mangiato il fondo, poi l'ha sostituito con un po' d'erba e sopra ha rimesso la ricotta avanzata. Intervenne il responsabile, che nel frattempo con il braccio destro si puliva il muco dal naso. Era calda calda, è profumata! «Tenevo una fame che non ci vedevo!» Lo interruppe la mamma e con tono ancora minaccioso. «Zitto!» «Tiene ancora il coraggio di parlare!» «Manco si vede e fa già queste belle azioni!» «Vabbè, comma!» Riprese la mamma di Vincenzo. «Mimì l'ha capito, che non lo deve fare più!» E rivolgendosi al piccolo, ancora singhiozzante. «Gli è vero, Mimì!» Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. La voce che abbiamo ascoltato e che continueremo ad ascoltare nel corso di questo pomeriggio è quella di Francesco Sigillino, che oramai conoscete un po' tutti. parte integrante della vita culturale e sociale di questa comunità. Una comunità cetturese che, appunto, come si può vedere anche oggi, è una comunità vicina, attenta alla creatività, alla cultura e alla memoria storica. Ed è per questo che, innanzitutto, vi ringraziamo per la vostra presenza. Andando al brano, invece, i due brani letti sono tratti dal romanzo che andiamo qui a presentare. «In una vita, una storia del secolo breve», a firma di Vincenzo Di Milta. Possiamo definire questo romanzo una biografia romanzata, anche se in realtà, in qualche modo, possiamo parlare anche di diario, di documento storico, ma, in ogni caso, l'aspetto più importante, o l'aspetto che volevo sottolineare, prima di dare la parola ai relatori, è che si tratta, in ogni caso, di un protagonista molto importante della vita di Accettura. Un protagonista le cui vicende abbracciano l'intero secolo, l'intero 1900, e, in qualche modo, anche se diverse, tutte le vicende della sua vita partono e arrivano e tornano ad Accettura. Quindi Accettura è sempre presente. Lui nasce ad Accettura, il protagonista è Accetturese, e da Accettura parte, da Accettura ritorna, quindi molto bella anche è questa circolarità della presenza, appunto, di Accettura nel testo. Sicuramente i brani ascoltati sono molto interessanti e volevo sottolineare anche un altro aspetto. Anche laddove il protagonista non è presente fisicamente ad Accettura, Accettura è presente nei ricordi, nei dialoghi, nelle lettere che la sorella gli scrive. Quindi, appunto, Accettura presente prima e dopo. Il protagonista è Giuliano Di Milta, detto e conosciuto come Giuliano Amarzon, che il 2 giugno, lo scorso 2 giugno, è stato insignito della medaglia d'onore, alla memoria, dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in quanto dopo essersi rifiutato di aderire alla Repubblica di Salò, è stato internato in un campo di concentramento. Quindi parleremo della storia, parleremo di questa, diciamo così, biografia romanzata durante tutto questo pomeriggio, in presenza del sindaco di Accettura, che ci raggiungerà nel corso del pomeriggio, Alfonso Vespe, e anche di Antonio Trivigno, presente come rappresentante delle edizioni Transumanti, con Vincenzo Di Milta, autore del libro, e con Donato Lo Scalzo, professore dell'Università di Perugia. Grazie a tutti e possiamo cominciare. Il giovane Milite venne fuori trionfante con il fucile a tracolla, impugnando le zampe di due tacchini, pregustandone l'arrosto, che di lì a poco avrebbe condiviso con la sua squadra. Un urlo incomprensibile si levò improvviso alle sue spalle, e contemporaneamente un bastone di legno si abbatté tra capo e collo del Milite, che, tramortito, crollò a terra. Un pastore di mezza età, con la barba lunga, quasi tutta bianca, seguito da un adolescente, era spuntato da dietro il capanno e si era fatto giustizia. I due vennero immediatamente circondati dal gruppo di soldati, con le armi spianate, e non poterono che alzare le braccia. Erano entrambi coperti da giacconi lacerati e rammendati. I copricapi di lana scura sormontavano anche la fronte. Il fanciullo, tremante, borbottava implorazioni incomprensibili, mentre l'adulto si consegnò senza battere ciglio, chiudendosi in un silenzio imperturbabile. Giovanni, prontamente soccorso, fu medicato alla nuca. La ferita non sembrò profonda, e si sarebbe rimesso presto. Caporale, comunque non è successa una cosa assai grave. Se qualcuno dovesse venire a rubare nel mio pollaio, anche io reagirei malamente. Il borioso caporale, con tono autoritario e assertivo, lo interruppe. Nessuno ha chiesto il tuo parere. Se li lasciassimo andare, chiunque si sentirebbe autorizzato ad aggredire i patrioti italiani. Nicola evitò di replicare, e il caporale, con una superficialità disarmante, sentenziò. Li fucileremo subito. Servirà da monito e lezione agli altri. Miserabili zingari. I presenti increduli ed esterefatti furono colti di sorpresa da quell'assurda decisione. Non poteva parlare sul serio. Avrà delirato. Non si sarà reso conto dell'abnormità di quella sentenza. Tutti concordavano che non era possibile vestirsi di tanta autorità e con inspiegabile superficialità decidere di macchiarsi di un simile crimine. Il caporale non era per fare prigionieri. Esaltato dalla situazione, ostentò risolutezza e con feroce spocchia allungò la mano destra e puntando l'indice Tu, tu, tu e tu Formate il plotone d'esecuzione Voi altri posizionate i vigliacchi contro il capanno Giuliano, che allarmato era corso nei pressi dell'accaduto era destinatario di uno dei quattro tu Non riuscì a trattenere e ammise Caporale, io non me la sento per niente È più forte di me Non riuscirei mai a fare una cosa simile È un ordine Allora puoi dare l'ordine di fucilare anche me Se ti rifiuti ti deferirò per insubordinazione alla corte marziale I due malcapitati non fecero fatica a comprendere le intenzioni degli invasori L'adulto estrasse il tabacco e prese ad arrotolare una cartina omettandola più riprese con la lingua e con una flemma mista indifferenza e orgoglio e accese la sigaretta e iniziò a fumare Inspirava e godeva degli ultimi odori e sapori che la vita gli riservava Il fanciullo, invece che non pareva essere suo figlio quando il plotone d'esecuzione si avvicinò rabbrividì che il suo gracile corpo fu scosso da improvvisi sussulti incontrollati La parte dei pantaloni che si poteva scorgere da sotto il giaccone era tutta bagnata Alle urla inconsulte fege seguito un pianto addirotto Il condannato si tranciò la lingua sotto i denti dalle labbra sottili sgorgava sangue che si mescolava con le ultime lacrime Avanzate Grazie Abbiamo appena ascoltato un brano tratto dal libro in cui emerge proprio il dramma della guerra e anche una sorta di contrapposizione tra l'esercito italiano fascista che compie atrocità in terra straniera contro gli impotenti e questo senso di giustizia contro la guerra che sente Giuliano e i molti Giuliani diciamo così che erano presenti lì mandati in guerra in una guerra ingiusta Ecco, adesso vorrei porre una domanda all'editore per capire perché ha creduto di pubblicare questa storia Perché? Innanzitutto perché è un bel libro quindi in assoluto come primo elemento vale la lettura della storia e questo da lettore e non da responsabile delle edizioni Poi perché è coinvolgente tutta la storia è coinvolgente nella susseguirsi di immagini e altrettanto di alternarsi di sentimenti alternarsi di sentimenti che si avvicendano dal dolore alla gioia alla rabbia una ricchezza nella lettura data da una serie di momenti che per esempio i dialoghi i dialoghi che sembrano un fatto stativo invece alla fine diventano particolarmente incisivi in questa storia da farci diventare testimoni quasi testimoni oculari della scena cioè siamo talmente coinvolti nella lettura di tutta la parte dei dialoghi che effettivamente abbiamo quasi l'impressione di essere presenti nello stesso posto e inoltre c'è un altro elemento che è importante molte volte ci sembrano storie già sentite perché in realtà storie relative alla guerra relative alla miseria relative alla tristezza in genere ci hanno in qualche modo almeno fino a chi è nato diciamo negli anni ancora agli inizi degli anni 60 siamo stati accompagnati da questi da questi racconti per cui il libro non ci è stranio ci è quasi familiare nel quale appunto riconosciamo i nostri parenti prossimi quindi quasi una dimensione molto molto personale un altro elemento che mi ha convinto o che perlomeno contraddistingue questa parte del libro è la presenza delle donne la presenza delle donne che non è una presenza di facciata non è solo quella che sta lì per fare il peso per dare appoggio ad altri elementi ma sono ponderanti la capostipite in questo caso la che rubina a marzella diventa quasi un monolite una donna intorno alla quale gira un'intera esistenza e tutta la famiglia che man mano va avanti tanto è vero che ancora oggi sono identificati con questo matronimico insomma quindi tutti quanti conosciamo Zia Rosa Amarzen Zia Euda Amarzen Siciliana Amarzen proprio perché il nome di questa donna è stato così forte nel guidare la famiglia e quindi alla luce di una lettura possiamo anche pensare possiamo intuire che è stato un punto di riferimento anche per Giuliano perché essere dalla parte dei più deboli essere contro le ingiustizie riuscire a riconoscere il modo di misurare le cose è fondamentalmente permettetemi un merito femminile perché gli uomini fondamentalmente stupidi sono quelli che la fanno la guerra mentre a casa c'è una moglie c'è una mamma c'è una sorella che resta a piangere i propri cari morti e quindi in merito a questo io avevo sempre una domanda da porre a Vincenzo a un certo punto questa figura appunto di Cherubina che per quello che mi riguarda regge oltre mezzo libro improvvisamente scompare non ne sappiamo più nulla e quindi la domanda era perché che cosa è successo perché non siamo stati partecipi della sua morte Cherubina era nata nel 1899 98 ed è morta nel 1978 quindi io personalmente non ricordo di averla conosciuta però diciamo che come dire con una una diciamo proiezione una provocazione sarei voluto partecipare avrei voluto partecipare al funerale insomma ecco quindi rivolgo la domanda a Vincenzo perché non ci hai reso partecipi della scomparsa di questa figura un'ultima cosa in merito al romanzo alla biografia è la parte appunto dell'intera vita di Giuliano che nella vicenda tra il personale e il collettivo quindi nel momento in cui uno subisce un torto nel momento stesso in cui questo torto poi diventa il motivo per avvicinarsi e combattere per i torti di tutti gli altri ci rende inevitabilmente la storia da singolare al plurale e quindi è la storia dei tanti e questa riflessione che ci avvicina appunto a tutta la vicenda umana e storica di non solo di Vincenzo ma di tutto di Giuliano ma di tutto quel periodo mi porta e credo che porterà chiunque leggerà il libro a fare la riflessione che la storia non può essere riscritta a piacimento e in questo momento storico appunto dove da più parti c'è questa necessità chiamiamola necessità insomma volontà di revisionismo mi sembra che la vicenda di Giuliano ci possa aiutare a maggior ragione a dire no a questa revisione Salvatore qui finisce male li senti e mentre manifestava i suoi timori ricordava gli appellativi che il suo caro amico Giuliano riservava a quei carnefici chissà se a lui era andata meglio sicuramente era stato un errore separarsi non avrebbero mai dovuto farlo nel frattempo i conciliaboli dei luridi erano terminati e la colonna riprese a marciare fino a giungere in una cava e qui le ultime speranze si inabissarono definitivamente mutando in nera disperazione anche i loro cuori si consegnarono a una morsa genida molti dei condannati vacillavano con triti fin nelle viscere altri si guardavano sconcertati e imploranti altri ancora chiedevano una sigaretta qualcuno sentenziava le peggiori sorti ai boia che avevano di fronte Salvatore posò il braccio sinistro sulle spalle di Angelo ma è veramente finita nell'intreccio indistinto di sensazioni e pensieri degli ultimi calzanti istanti di vita trovo anche il tempo per caricarsi di altro dolore mi dispiace per i miei familiari e per quanto staranno male quando sapranno della mia sorte furono le ultime parole di Carlo il Tarantino si udì anche ingiungere con l'accento marcatamente veneto fermatevi la vita è sacra per tutta risposta un ufficiale della Wehrmacht ordinò sti figli di puttana sono proprio dei diavoli mi auguro solo che chi sta lassù che a noi manco ci vede possa proteggere i miei familiari eppure domenica erano gli ultimi desideri e anche le ultime parole pronunciate da Angelo una folata mistica invece investì il grumentino noi non siamo traditori come ci vogliono far credere paghiamo con la vita perché non abbiamo voluto fare cose come questa che si apprestano a fare adesso loro quando saremo al cospetto almeno lui lo capirà giunse inesorabile l'ultimo ordine scagliato con il braccio e la mano tesa verso i traditori italici fuori la trama dei loro pensieri e desideri fu inesorabilmente interrotta dal fragore delle mitragliatrici ben posizionate di contro alla lunga schiera di fieri bersagli inermi presto falcidiati in successione come birilli le loro vite abusate tormentate in quel tragico ed erisorio 24 aprile del 1945 avevano conosciuto il più brutto giorno e nel silenzio tragico e assordante che ne seguì la morte trionfò solo in tre miracolosamente sfuggirono alle sventagliate dei mitra e all'immancabile colpo alla nuca meno di 24 ore dopo l'eccidio i sovietici avrebbero definitivamente liberato il campo di Troienbritzen desolatamente vuoto un'ultima beffa ora la domanda all'autore cosa ti ha spinto a raccontare questa storia perché questa storia andava raccontata grazie Trivigno voglio ringraziare innanzitutto i presenti tutti quanti siete in tanti veramente mi fa davvero piacere ed è commovente questa partecipazione ringrazio in particolare i presenti l'editore che ha tanto ha fatto tantissimo per perché si giungesse alla stesura finale di questo romanzo ringrazio Maria Alice che è qui con noi questa sera a coordinare questi lavori carissimo amico Donato Lo Scalzo professore a Perugia che da sempre ha sostenuto questa iniziativa con questa pubblicazione con tantissimo entusiasmo a Francesco credo che meriti veramente un altro applauso perché è bravissimo nell'interpretare queste letture che purtroppo sono effettivamente molto molto drammatiche ma purtroppo la realtà molte volte è così e non possiamo far finta che non non ci sia stata e non sia esistita ringrazio tantissimi dei presenti non faccio nomi perché insomma farei sicuramente dei torti però in particolare e chiaramente i miei familiari ringrazio i tanti che hanno hanno sostenuto diciamo questo mio impegno gli studenti stasera abbiamo una rappresentanza di studenti anche perché questo libro diciamo il germoglio di questo libro ha visto la luce nella scuola quindi e poi progressivamente è arrivato fino qui questa sera tra i tanti presenti ci sono due protagonisti di questa storia e sono qui in prima fila e sono Rosa la sorella di Giuliano e Margherita l'amica di Cenzina che sono qui testimoniano la concretezza la cruda realtà di questo racconto c'è anche Giuliano il figlio di Antonio Lo Scalzo che era nel campo di concentramento di Bronze insieme a Giuliano due compaesani che si sono ritrovati a 2000 km nello stesso campo di concentramento a subire gli stessi abusi e poi ci darà anche una piccola testimonianza allora per non deviare per non dilungarmi eccessivamente non voglio sfuggire alla domanda di Maria Alicia allora noi questo romanzo parte dagli anni 30 diciamo anni difficili un po' dappertutto nelle nostre realtà la realtà interna della Lucania una regione assolutamente sconosciuta allora per certi aspetti anche adesso figuriamoci quanto si parla di 80 anni fa quindi una difficoltà in cui imperversava diciamo il lavoro che non era lavoro ma era veramente fatica era sacrificio il lavoro mal retribuito la sofferenza la fame eccetera quindi un periodo drammatico di cui sicuramente tantissimi di voi sono a conoscenza perché hanno avuto testimonianze dai loro antenati poi c'è la guerra di cui abbiamo sentito qualcosa e non aggiungo altro ci stanno i cambi di concentramento quelli tedeschi dove appunto delle persone hanno avuto la forza e il coraggio di rifiutare l'invito che veniva fatto in maniera continuativa di aderire all'esercito della Repubblica di Salò pur versando in condizioni drammatiche i tedeschi addirittura in maniera coercitiva riducevano il cibo che già era scarso nel tentativo proprio di convincere questi soldati a tornare in Italia ad aderire ebbene quasi il 90% di questi prigionieri che erano circa 650.000 si sono rifiutati quindi hanno fatto delle cose eroiche e in effetti vengono definiti anche questi dei veri e propri resistenti e quindi diciamo quest'altra realtà drammatica poi c'è la liberazione e poi la difficoltà del primo dopoguerra la miseria la fame e quindi molti sono costretti ad andare via tra queste anche il protagonista che va in Belgio nelle miniere a 1010 metri di profondità all'epoca non esisteva previdenza non esisteva alcuna assicurazione quindi gli incidenti erano diciamo all'ordine del giorno quotidianamente si verificavano con gravi conseguenze dopo il ritorno nella propria terra e la volontà di riscatto e questa è la cosa effettivamente più incoraggiante del volume perché non c'è una rassegnazione al contrario di quello che forse è sempre stato il popolo lucano anche noi di Accettura ma ci sono degli stimoli ci sono delle iniziative che portano questa comunità anche a ribellarsi a quello stato di difficoltà perenne che veniva tramandato diciamo da sempre si può dire quindi la nascita delle organizzazioni politiche sindacali e poi l'occupazione delle terre che è stata una fase straordinaria dove come diceva l'editore le donne hanno avuto un ruolo particolare ma anche proprio ad Accettura le donne sono state protagonisti in queste lotte poi sentiremo anche un brano successivamente che testimonia proprio questo dopo l'occupazione delle terre le battaglie sindacali per le conquiste dei diritti dei lavoratori eccetera che sono proseguite fatte da persone come Giuliano che nonostante la famiglia cinque figli eccetera e quindi la volontà anche di progredire di far studiare i figli non è mai stato questa una giustificazione un alibi per non impegnarsi socialmente a servizio di tutti quanti gli altri tutto questo l'hanno vissuto in tanti effettivamente sono tante le persone sono tanti e gli esempi positivi lo straordinario secondo me è che tutto questo era aggruppato in una vita in una persona e questa è la cosa che mi ha spinto diciamo definitivamente a voler dare testimonianza di questa storia grazie Vincenzo frattanto non riuscì a tenere per sé la meraviglia che gli era capitata di scorgere ieri mia sorella e mamma dovevano impastare ho portato la legna e ho acceso il fuoco nel forno poi sono andato a pigliare un crescent da Maria ho bussato non mi ha risposto nessuno sono entrato e ho messo e ho visto la figlia addolorata nuda sgranando gli occhi per l'incanto e l'emozione che stava rivivendo era appena uscita dalla tinozza che spettacolo ma è proprio bella ma è bella bella sì ne ho capito non di incantare replicò Mimì ansioso di ascoltare il seguito aveva due men come gomitoli e il coso il parpaglione hai capito era come come un nido nero nero e beh il nido del volatile dichiarò prontamente il sagace Mimì con l'aria di chi la s'allunga e giù risate e poi l'eclettico fanciullo eccitato dal pruriginoso racconto chiede sfogo alle sue arti mimiche e si trasformò in ballerino volteggiando come una piuma e con un guizzo estrionico declamò versi improvvisati rivolti all'avvenente fanciulla del vicinato ah quanto mi sento addolorato per essere mancato più mai succederà e anche a me il nido mi mostrerà i miei occhi brilleranno mentre le mie povere gambe tremeranno estirperò il dolore dal suo dolente nome gli offrirò il mio amore e forse anche il mio cognome intorno all'universo faremo un giro tondo e cambieremo questo mondo sarà un bel piacere mimi oi mimi l'urlo proveniente dall'uscio di casa della comara rosa interruppe l'esibizione l'amico si congedò malvolentieri mamma mi dà sempre fastidio è meglio che vada sino nuovamente mazzate tanto per cambiare se riesco ritorno presto allora questa sera qui con noi sarebbe dovuto esserci anche il professor Giuseppe Perta storico e professore all'università suororso la benincasa di Napoli per un improvviso impegno non è potuto essere presente e quindi ha mandato una sua riflessione che oggi che appunto adesso leggerò relativamente al libro può un romanzo biografico assurgere a testimonianza o meglio si può considerare ciò che deliberatamente è un testo letterario come una fonte storica degna di affidabilità il problema è di metodo ed è un problema assai attuale perché la storia è anzitutto racconto e trasmissione e ha due scopi tramandare una conoscenza e suscitare una riflessione anche perché no tramite un'emozione problema e testimonianza l'uno e l'altra attuali anche perché intrecciano a volo d'uccello locale e globale per di più si tratta di una testimonianza scritta dal figlio del protagonista che inevitabilmente non può che partecipare alle sofferenze ai travagli ai sogni e alle disillusioni del padre ma la testimonianza è a un tempo obiettiva e ancora più preziosa proprio perché condivisa frutto cioè di una stesura capace di interpretare al meglio il sentire del protagonista siamo di fronte ad una biografia che è quasi un'autobiografia Giuliano Di Milta è un cittadino di Accettura manifesta tuttavia una voglia e diremmo anche un'incessante necessità di andare oltre i confini della sua regione prima per rispondere all'obbligo di leva e alla chiamata alle armi del 1940 poi col passare dei decenni per cercare fortuna e anzi sopravvivenza altrove infine tornato in patria attraverso una militanza mai limitata all'orizzonte lucano orientata da sogni rossi e paure nere che vengono da lontano e i tentativi di rimanere in patria sono sempre legati alla voglia di trascinare con sé verso il futuro verso lo stesso sogno la propria terra che però ostinatamente rimane lì dov'è ferma povertà e santità eppure sia ad accettura che altrove Giuliano non è mai solo è disponibile generoso solidale e quando sta alla camera del lavoro diventa un punto di riferimento per l'intera comunità ha ragione Donato lo scalzo illustre ellenista dell'università di Perugia a scrivere in una prefazione non banale e che arricchisce ulteriormente il volume che si tratta di una storia che meritava di essere raccontata e per questo bisogna essere grati ad Antonio Trivigno che ha saputo ricostruire anche l'eleganza della veste grafica un ulteriore frammento di un mosaico che raffigura l'identità etica di un'Italia che non esiste più in definitiva questo libro è o sarebbe uno strumento di pedagogia morale sarebbe scrivevo poc'anzi perché oramai si pensa che le storie meritano di essere raccontate soltanto se trovano spazio nei film e nelle serie tv sono le istituzioni a doversi far carico della conservazione di questo patrimonio un patrimonio culturale a loro spetta il compito di difendere i diritti culturali della comunità potremmo forse mai accettare che qualcuno venisse a stracciar via i ricordi della nostra famiglia fotografie carte oggetti ipotizzando di sostituirle con un video o qualche immagine salvata sul telefonino si tratta insomma di una battaglia ideologica che vale la pena di combattere anche quando si è consapevoli della sconfitta è o non è quello che ha fatto con ostinazione Giuliano Di Milta ripeto questa è la riflessione del professor Giuseppe Perta Giuliano io mi trovo qui perché non posso farne a meno ho quattro figli da campare non ho altre possibilità a meno che raccolgo tutto e scompaio da qua scappandomene con la famiglia di notte neanche di giorno sempre più infervorato tanto più nera della mezzanotte non potrà essere peggio di qua non potrò stare era l'amico Giulio il marito della bella addolorata particolarmente consternato e collega di zappa giovane ma già inarcato dalle fatiche magro guance infossate occhioni e capelli neri e viso arato dalle rughe che confessava la sua impotenza di fronte al ricatto del padrone o questo o niente ma tutti loro erano vassalli impotenti di un destino ereditato e immutabile la disperazione di Giulio turbò talmente tanto Giuliano che si sentì improvvisamente inerme e non seppe trovare alcuna parola che potesse comportarlo notò però non senza stupore che il manico della sua zappa era sporco di terra impastata di sangue e istintivamente Giulio fammi vedere le mani e allungando le braccia con il palmo in su è un dolore insopportabile talmente atroce che quasi non le sento più mie Giuliano spalancò gli occhi serrò i denti e le labbra e indietreggiò gli tornò in mente l'immagine della foce a delta dei fiumi di cui aveva parlato ai tempi della scuola la sua maestra maresciallo le mani di Giulio erano solcate da ragadi profonde in cui scorreva sangue e contornate da calli rigonfi mamma mia come fai a faticare Giulio scosse la testa e sollevò le spalle senza aggiungere altro stasera passa da me ti do un po' di grasso di maiale che io conservo ogni anno la sera lo scaldo sui carboni e sia io che mio fratello lo spalmiamo sulle mani è sanda a cause devi usarlo assolutamente speriamo non ne posso più grazie quante possibilità ci sono che due persone dello stesso paese dopo aver rifiutato di aderire alla Repubblica di Salò si incontrino in un campo di concentramento in Germania poche ma succede appunto a Giuliano che condivide momenti di sconforto e di lavori forzati con Antonio Lo Scalzo come diceva l'autore abbiamo qui la testimonianza del figlio Giuliano passerei la parola a Giuliano Giuliano ti portiamo il microfono se ci vuoi dire qualcosa io so mio padre è andato a cosa in Albania in Albania l'hanno presa l'hanno presa per Gionieri in Albania poi da lì l'hanno passata in Germania la stessa però poi aveva tre pallotti uno al fronte destra un altro al ginocchio uno al dito destro e poi non so più niente grazie dicevo grazie Giuliano non è facile insomma poter parlare oltre a Giuliano c'è anche la sorella Maria mi scuso non ho parlato prima avete avuto un saggio di che significa ricevere informazioni da chi ha vissuto in maniera indiretta queste esperienze drammatiche vissute da tantissimi purtroppo nel nostro paese va bene grazie il papà di Giuliano non ha parlato dell'esperienza è un processo di rimozione che appartiene a tutti coloro che hanno vissuto sono stati internati e comunque hanno vissuto delle tragiche esperienze nei campi di concentramento aprire una ferita o meglio raccontare quello che si è vissuto è proprio aprire una ferita rispetto ad una situazione in cui si è stati privati dell'identità nei campi di concentramento c'è la volontà di distruggere l'identità della persona quindi è difficile raccontare ecco perché molte testimonianze non sono neanche così note così raccontate bene allora adesso passerei la parola al professor Donato Lo Scalzo che si è occupato anche della presentazione di Una Vita ecco quello che pensavo Giuliano è un eroe un eroe rientra può essere definito una figura importante nell'ambito dell'eroe nel romanzo il romanzo dell'eroe ecco quindi magari una riflessione ecco su su questo aspetto dell'eroe all'interno del romanzo allora Giuliano è un eroe protagonista del romanzo e convenzionalmente noi protagonisti del romanzo richiamiamo eroi perché sono quelli che nella loro vita scelgono sempre di passare come dicono gli inglesi da una situazione di conforto da una comfort zone a una zona di conflitto perché sono personaggi che si ribellano si ribellano in nome di due principi il principio della libertà e il principio della giustizia inseguono costantemente questi due valori Giuliano però è anche un eroe perché è stato decretato come tale dal presidente della repubblica quindi è stato insegnito di una medaglia e quindi alla storia lui risulta essere un eroe che cosa significa essere eroe in effetti è una parola quasi che nel nostro linguaggio quotidiano risuona anche antipatica per certi versi perché l'eroe è qualcosa di cui bisogna avere paura proprio perché è un personaggio che si pone come ribelle uno che vuole la giustizia vuole cambiare le cose c'era un storico tedesco storico poi drammaturgo tedesco che era Bertolt Brecht che diceva sventurata quella terra che ha bisogno di eroi perché questo perché una terra che ha bisogno di eroi è una terra in cui nulla funziona non c'è la libertà non c'è la giustizia non ci sono questi due valori portanti e quindi l'eroe deve essere quello che con la sua opera rivendica determinati diritti gli eroi sono personaggi che agiscono anche per essere imitati sostanzialmente sono personaggi che fanno della loro vita un esempio qual è l'esempio che noi possiamo trarre da questa storia come diceva prima l'autore Vincenzo tutta la vita di Giuliano attraversa tutte le fasi del secolo breve sono stati elencati non c'è bisogno che io vada oltre e però Giuliano rappresenta da questo punto di vista un personaggio anomalo perché in genere l'idea che c'era dei contadini lucani era quella della passività il mondo contadino come era stato descritto da Levi il quale non voleva assolutamente accusare i contadini era visto come un mondo di personaggi reazionari che si chiudono nel loro mondo di magia nella loro rassegnazione alla sorte invece Giuliano come poi farà anche Scotellaro dimostreranno invece che il sud è estremamente pieno di contadini che vengono da quel mondo ma che reagiscono alle ingiustizie che vogliono cambiare per esempio Scotellaro vedeva con un certo buon occhio il fatto che i contadini fossero emigrati perché questo rappresentava una risposta alle ingiustizie che il sud in quel momento stava subendo insomma quindi l'eroismo ci riporta ovviamente al senso di tutta questa di quest'opera e anche poi al bisogno degli eroi noi dobbiamo leggere il mondo degli eroi perché attraverso la loro storia ci appropriamo della nostra identità culturale di quello che siamo purtroppo si dice oggi che nessuno studia più la storia si dice che la storia è una materia poco studiata poco conosciuta e si dice anche un'altra cosa che per un uomo un uomo per poter capire quali sono i propri diritti e i propri doveri deve conoscere almeno gli ultimi cento anni della sua storia perché lì i diritti e i doveri sono stati creati oppure sono stati ostacolati e quindi sostanzialmente attraversare questo periodo attraverso la visione di un ribelle di un uomo che si è ribellato alle ingiustizie significa per noi sostanzialmente capire quello che siamo da dove veniamo e in un certo senso anche creare il nostro futuro grazie un'ultima domanda al professore piccola in una vita può essere definito anche un brano un documento di microstoria quindi di microstoria è anche un testo che potrebbe essere importante per la comprensione della storia un testo che è raccontato con il cuore cosa ci può dire attraverso cosa ci può dire rispetto a un racconto fatto con il cuore con dei personaggi che sono protagonisti vivi vivi nel senso vivi presenti nella vita quello che dicevo prima sull'urgenza di conoscere la storia e anche sulla difficoltà di studiare la storia perché la storia è come sequenza di dati di date di governi che cambiano è qualcosa che rimane così assente così lontano remoto dalla nostra sensibilità che non può essere acquisito io proporrei di sostituire lo studio della storia allo studio dei romanzi che parlano di storia perché è l'unico modo per poter accedere a questo mondo io dico sempre che se noi volessimo studiare il seicento potremmo leggere tutti i trattati ma non capiremo nulla come invece capiremo leggendo i promessi sposi che del seicento hanno dato un quadro perfetto compiuto oltre che un'opera d'arte questo perché perché il romanzo induce a capire la storia veicolandolo entrandoci dentro non attraverso la ragione ma attraverso il cuore attraverso le emozioni e quello che noi impariamo attraverso le emozioni rimane indelebilmente scritto nella coscienza perché l'emozione ci arricchisce c'era una una studiosa americana Martha Nussbaum che diceva parlava della dell'intelligenza delle emozioni paradossalmente noi possiamo studiare tante cose ma se non lo facciamo con il cuore non le capiremo mai che cosa ci insegna questo romanzo ci insegna tante cose ci insegna per esempio a capire la storia attraverso altre emozioni come per esempio la paura la paura di essere uccisi ma anche appunto la paura di uccidere quanti di noi quando parlano di guerre di battaglie ricordano che ci sono dietro queste date dietro queste storie ragazzi ventenni che sono stati trucidati una volta lessi un racconto adesso devo dire anche qualcosa di sgradevole di uno storico che era entrato in un campo militare nella guerra dei primi guerri del novecento la seconda della prima guerra mondiale che rimase impressionato dai cadaveri che oltre a essere sventrati erano tutti pieni di sterco cioè loro prima di morire avevano defecato per la paura e questo assolutamente noi non lo ricordiamo non ricordiamo che ci sono donne che soffrono che ci sono uomini che soffrono che le guerre sono fatte per trucidare i ragazzi che sono la forza del futuro e sostanzialmente questo romanzo ci guida a entrare nella storia attraverso il cuore non attraverso il cervello grazie ah comandante maresciolo quello che siete a noi non ci comanda proprio nessuno abbiamo tutto il cervello per capire siamo tutte madri e padri di figli e sappiamo fin troppo bene quello che facciamo e guardando fisso negli occhi il graduato allungò entrambe le braccia arrestateci tutte se avete il coraggio io devo sfamare sei creature che si muoiono di fame provateci se avete coscienza l'interrogante tracagnotto di mezza altezza viso rotondo con le guance rosse penzolanti occhi scuri e piccoli accusò visibilmente il colpo e più per dovere che per convinzione ribatté ah signor non fiamo molto chiacchiere mi dica chi vi comanda e chi è l'organizzatore di queste occupazioni a lei non faremo nulla la contadina quanto contrariata mentre raddrizzava nervosamente il fazzoletto blu che aveva in testa rivolta ai suoi sottovoce e dal questo non lo capisce proprio signor non peggiorate la situazione che state a dire Caterina spazientita fece due passi verso il graduato ho detto che dimostrate di non capire niente io non tengo tempo da perdere se proprio la fate salata sapete che vi dico io sono solo naciuto qualunque non capisco niente non so niente zappo la terra e destirpo i rovi e basta non mi fate perdere più tempo stat bu così dicendo ritornò sui passi e prese a zappare con ancora maggiore vigore alquanto frustrato il brigadiere si congedò con una minaccia buttata lì a casaccio non finisce qui questo vale per tutti quanti voi sappiatelo e si allontanò seguito dai sottoposti grazie per avermi ascoltato abuso della vostra pazienza però ci tengo tantissimo anche perché tutto questo romanzo è un inno anche al migliorarsi all'evolversi all'andare avanti all'acquisire conoscenze competenze e i protagonisti tentano di fare questo allora noi volevamo dare un piccolo segnale quindi un piccolo riconoscimento a una rappresentanza di studenti di Accettura che si sono particolarmente distinti e quindi le vorrei invitare qui sul palco uno per volta li chiamo vabbè andiamo in ordine alfabetico voi chiamarli tu sì sì Francesca Fanuele diplomata al liceo musicale tutti insieme Giuliana Filardi diplomata al liceo scientifico Alessandro Giammarino diplomata al liceo scientifico Bruna Moles diplomata al liceo pedagogico Giovanni Moles diplomata all'istituto agrario Benito Norati diplomata al liceo scientifico e Domenico Urgo diplomato al liceo scientifico gioco grazie a tutti allora omaggiamo questi ragazzi con una coppia che non la dedica personalizzata ognuno di loro in ordine, dovrebbero essere Giuliana, Francesca, auguri, poi tocca a Giuliana, complimenti, Giuliana anche la lode, quindi un applauso supplementare ci andrebbe. Poi abbiamo Alessandro, complimenti Alessandro, adesso tocca a Bruna, Bruna il papà di Accettura, mamme di San Mauro, complimenti, e questo è Benito, tu hai scappato, Benito è qua, complimenti, complimenti a Bruna, no, no, Domenico, complimenti, complimenti a Bruna, Domenico tra l'altro è il pronipote di un protagonista del libro, il trombettiere, che girava per il paese i giorni per riunire i braccianti per l'occupazione e dirigersi verso Gallipoli. Vito Labbate, l'ultimo è Giovannino Moles, complimenti Giovanni. Io vi ringrazio di nuovo, se volete dire qualcosa, se qualcuno di voi vuol dire qualcosa ci vorrebbe piacere. Giuliana, va bene, grazie mille per questo riconoscimento, è bene sottolineare che chi si impegna poi viene sempre premiato e è una spinta per il futuro sempre, quindi grazie mille. Giovanni, qualcosina la dici, dai. Vabbè, voglio ringraziare il professore perché mi ha invitato a noi ragazzi, questo è stato per noi di grande comporto, ma anche perché è una similitudine a quello che viene raccontato in questo romanzo, perché noi per ottenere quello che abbiamo ottenuto a scuola ci siamo impegnati e ci siamo cimentati. È la stessa cosa che ha fatto Giuliano nella sua vita, ha lottato contro tutto, con impegno e poi sono arrivati degli ottimi risultati. Grazie Giovanni. Va bene, se non c'è altro, vi salutiamo e vi ringraziamo. Grazie. Prego, prego. Avevo dimenticato prima di salutare il figlio di Sansone Pasquale che è qui presente in sala, detto Togliattino che era il segretario della sezione del Partito Comunista nel primo dopoguerra. La salutiamo. Ecco, allora prima di passare alle domande, se dal pubblico appunto immagino ci siano delle domande, volevo in ogni caso ringraziare l'amministrazione comunale per aver messo a disposizione il cineteatro e direi a questo punto apriamo le danze delle domande. Io so già che c'è un carissimo amico che è venuto a trovarci di San Mauro, Mimì Deufemio, che aveva intenzione di fare un breve intervento. Mimì, ci sei, ti sei nascosto. E allora lanciamo di qua, vai. Ma io sarò brevissimo perché insomma la serata è già inoltrata. Io il libro per la verità l'ho detto a Vincenzo, l'ho letto stanotte e l'ho letto tutto in una tirata. E più che soffermarmi su Giuliano Di Milta, figlio di povera gente, soldato, prigioniero, padre esemplare, sarà anche per la mia formazione politica e culturale la cosa che più mi ha emozionato è stata la figura di Giuliano Di Milta, leader delle lotte contadine, è dirigente politico. Guardate, lo diceva anche il mio amico Trivigno, noi stiamo vivendo un momento molto difficile, io non la voglio buttare in politica perché questo non è un incontro di parte, ma stiamo vivendo un momento in cui questo terribile cancro, lo chiamo io, che il revisionismo sta annullando nella memoria collettiva e storica del nostro popolo tutti i sacrifici che gente come Giuliano Di Milta hanno fatto durante la loro esistenza. Io lo voglio dire con estrema chiarezza, il nome di Giuliano Di Milta io lo associo a una parola, terra, il pezzo di terra per dar da mangiare alle proprie famiglie. Questo è stato il leitmotiv che ha spinto Giuliano e tanti della sua generazione a lottare. La terra, noi non dobbiamo dimenticare che la terra è stato il miraggio dei nostri contadini, a partire praticamente dalla Repubblica Partenopea, i Borboni tornarono perché Garibaldi e i piemontesi dimenticarono di consegnare la terra ai contadini. Lo stesso brigandaggio si sviluppò perché non fu data la terra ai contadini e quello splendido movimento di cui Giuliano D'Accettura fu protagonista fu quello dell'occupazione delle terre che vide in Giuliano Di Milta un protagonista d'Accettura, quando la mattina al buio centinaia di contadini con i muli, con i bambini ancora nello scialle, si dirigevano verso i grandi latifonti da occupare, compresi quelli di Accettura. E io voglio chiudere con una cosa che a me mi sta particolarmente a cuore e che mi ha colpito leggendo il libro. Giuliano Di Milta era un fiero militante del Partito Comunista Italiano, un partito che è stato un riferimento insostituibile nella storia di milioni di donne e di uomini, una immensa comunità, io lo voglio ricordare, in cui io le ho viste quelle tessere e in loro ho rivisto anche le tessere di mio padre. Mio padre per la verità si era scritto qualche anno prima, nel 1945, al Partito Comunista. Un'immensa comunità, lo voglio dire ai più giovani, nella quale l'essere compagni e avere in tasca la tessera con la falce e il martello costituiva un inalienabile diritto di cittadinanza. La storia di Giuliano è anche la storia di tanti contadini e di tanti braccianti a cui quel partito ha insegnato a non togliersi il cappello al passaggio del padrone. Contadini che grazie a Giuliano e a quella sua generazione hanno svolto un'azione importante di emancipazione e di riscatto. Storia come quella di Giuliano che testimonia una grande passione, sfide a viso aperto, ideali che si sono inguneati nelle menti di tanti uomini, e donne, ideali che hanno fatto sognare e a volte illudere di poter cambiare il mondo e aiutare gli uomini a liberarsi dalle ingiustizie. Storie, lo voglio dire, anche di errori, di contraddizioni, di doppiezze, di abbagli. Storie però oggi, lo ripeto e chiudo, che non possono essere affidate a quelli che io definisco i roditori della storia, di destra e di sinistra, che in un ambiente adatto come quello di oggi si stanno moltiplicando in maniera impressionante. Ora, cari amici, fare un bilancio dei militanti come Giuliano Di Milta richiede spirito di verità e onestà intellettuale, tanti traguardi mancati dalla promessa di libertà e fratellanza per tutti, gli uomini però, e chiudo con questa domanda, come sarebbe stata però diversa la storia di tante piccole comunità come Accettura, senza il cuore dei comunisti come di quelli di Giuliano Di Milta, impegnati nel contrastare i signori dei feudi, i padroni delle fabbriche, i boss delle cosche, gli imprenditori senza scrupo. C'è qualcuno? Qualcun altro? C'è una cosa un po' galante, ma scendo da qua. Devo innanzitutto ricordare che la mia esperienza inizia essenzialmente con le battaglie del risveglio della Repubblica e con i principi costituzionali. E quindi a un certo momento mi sono trovato accanto a Giuliano per fare le stesse battaglie. Allora, i socialisti e i comunisti insieme hanno portato avanti le battaglie di elevazione sociale, di riscatto da una condizione che io ho vissuto nelle sue estreme espressioni, quella cioè della fine della cultura agraria. E quindi nel 1956 mi trovai ad essere uno della minoranza insieme a Giuliano, onorato il medico onorato Nicola e Belmonte Nicola. Fu la mia prima esperienza di resta politica. e insieme abbiamo portato avanti quelle battaglie e quelle rivendicazioni che poi per me sono espresse nel campo della scuola. Vincenzo mi riportò alla politica e alle amministrazioni. e quindi ho conosciuto il figlio di Giuliano nell'azione amministrativa e politica ma nello stesso tempo su un giornalino che io apprezzo ancora come espressione di una realtà vissuta nel nostro paese quello del paese in cui Vincenzo già esprimeva capacità diciamo di narrazione capacità espressive anche delle poesie ricordate e quindi per me l'intervento vuole appunto evidenziare alcuni aspetti della personalità di Giuliano è diciamo il costruttore di uno romanzo che è ricco e che ha bisogno di essere maggiormente approfondito. quindi ora sono brevi considerazioni che sono diciamo estemporanee rispetto alla lettura un'opera originale di storia locale quella personale di Giuliano e quella collettiva di un bordo delle aree interne degli appennini meridionali è tutto inquadrato nella cornice di quella più generale di un periodo storico di profonde trasformazioni di ordine economico sociale politico di sviluppo tecnologico che rispecchia la dinamica evolutiva del nostro tempo dalla millenaria civiltà rurale si perviene a quella dell'industrialismo dell'urbanesimo della mobilità di masse del digitale digitale con profonde mutazioni ambientali di vita di costumi culturali sconvolgendo le stesse caratteristiche antropologiche dell'uomo il protagonista Giuliano attraversa i grandi eventi del cosiddetto secolo breve consenso di responsabilità e seti di giustizia dimostrando capacità di orientamento e di guida per tutti i subalterni un vero leader unanimamente conosciuto nato nello stesso ambiente dei diseredati è stato anche lui un emigrato ma ha sempre cercato di costruire nel suo paese sempre a contatto con il popolo da operatore sindacale quindi è cercato di costruire il suo futuro della famiglia nel paese in particolari situazioni come in quello della scelta di campo durante la guerra delle occupazioni delle terre emerge come un vero eroe significativo il riconoscimento della medaglia d'onore alla memoria per essersi rifiutato di aderire alla Repubblica di Salò come tanti altri del proletariato ecceto contadino ha dovuto subire soprusi e discriminazioni del potere e della rigidità allora delle classi sociali contro cui ha lottato per l'affermazione dell'eguaglianza e dei diritti dell'uomo costituisce anche l'esemplare di elevazione sociale di molti giovani e famiglie meno abbienti grazie soprattutto alla istruzione conquistata attraverso le lotte per una scuola media unica e l'espansione della scuola pubblica di ogni ordine e grado l'eccellenza del protagonista e di tanti altri personaggi e ambienti di vita ben delineati e inseriti in una realtà storica viva e palpitante dei del secolo scorso fanno del romanzo un valido strumento di conoscenza e di riflessione su un passato che ci appartiene una forma di narrazione che va ad arricchire la letteratura del novecento caratterizzata da un realissimo profondo che è psicologico una letteratura che coglie le mutazioni del secolo breve dal punto di vista della struttura dell'opera della forma e del linguaggio la narrazione degli eventi si sviluppa in maniera piana e piacevole il dialogo si sviluppa in espressioni di contenuti e toni familiari le descrizioni non trascurano minuti particolari che danno anima e corpo a personaggi eventi ambienti di vita e di lavoro di cui esemplari quelli dell'occupazione delle terre della trebbiatura e altri lavori agricoli dei fenomeni atmosferici dell'esodo dalle campagne e del paese verso il nord l'autore l'autore in linea di massima non ha vissuto fatti narrati li ha presi attraverso la trasmissione orale del padre in particolare bravo affabulatore elaborando i contenuti in una struttura compatta coerente con le fenomenalità precipue di rappresentare una realtà storica in base alla sua sensibilità ma mantenendo la forma di una conversazione propria di trasmissione orale grazie Totonno e io voglio ringraziare particolarmente perché nonostante delle difficoltà anche di salute non smette mai di stimolare i giovani e tutte le persone con cui dialoga affinché non abbandonino l'impegno sociale e l'impegno politico e questa è una testimonianza che va fatta e gli va dato merito per questa sua determinazione e questa sua ostinazione grazie nel frattempo che viene allestito il buffet appena all'esterno del cinema se c'è qualche altra breve domanda va benissimo se qualcuno vuole intervenire faccio il valletto Giovanni Giovanni Ventura grazie salve sono un po' più veloce ho due domande veloci veloci la prima credo derivi dal fatto che non ho ancora ho letto dieci pagine del libro ora perché c'è il setaccio in copertina la seconda è un po' più complessa ed è ma non è ciut comunque il professor Roscalzo ha detto che gli eroi sono naccono in una società che purtroppo ha dei problemi o altro so che la storia la si legge poi col senno del poi ma gli eroi di oggi chi sono e come si riconoscono un pezzo io rispondo intanto devo rispondere pure a lui perché mi sono proprio dimenticato brevemente il personaggio che rubina che fine ha fatto nel romanzo è vero a un certo punto gli eventi storici fanno un salto e chiaramente la figura di Cherubina perde di interesse nel senso che dopo aver svolto il suo ruolo di mamma con la sua tenacia con la sua determinazione eccetera dopo che i figli chiaramente hanno avuto un loro percorso di vita determinato diciamo il personaggio non giunge a una sintesi finale ma credo che dal romanzo si evinca qual è stato il suo ruolo e penso che sia la cosa più importante poi facciamo rispondere agli altri io volevo dire solo questa io non credo che Giuliano fosse un eroe lo dico sinceramente anche perché per lui quando e che ha avuto modo di parlarci nel suo colloquiare non c'era mai nessun nessuna intenzione di di vanto o di compiacimento assolutamente cioè lui raccontava come quello che gli era successo e quello che aveva fatto era semplicemente un qualcosa a cui era chiamato a rispondere è un suo dovere fare quello che ha fatto tant'è che ne parlava con molta serenità ed era una persona assolutamente serena e contenta e soddisfatta e si riteneva anche molto fortunata nella vita che aveva compiuto per quanto riguarda facciamo rispondere per il setaccio deve rispondere l'editore comunque allora il setaccio setaccio anzi nello specifico di eugiornecchi non è un setaccio leggero è una metafora della vita nel senso che attraverso questo strumento noi selezioniamo il frutto dalle scorie insomma e quindi in sostanza rappresenta appunto metaforicamente le scelte che uno fa nella vita non si sottrae per cui decidere di stare qua significa escludere di essere dall'altra parte per cui nell'ambito delle scelte grafiche che abbiamo fatto io sono arrivato a questa conclusione condivisa dall'autore nel tempo onestamente nel tempo grazie grazie anche al professore io capisco che Vincenzo è piuttosto ritroso a dire che Giuliano era un eroe gli eroi non sono dei personaggi come Ercole che arrivano ammazzano sono quelli invece che hanno ben chiaro quali siano i propri diritti i propri doveri e cercano di portarli avanti come dicevo gli eroi sono quelli che agiscono in nome di due principi il principio della libertà e della giustizia ogni forma di governo deve scegliere se puntare più sulla libertà o più sulla giustizia le democrazie puntano sulla libertà però nel momento in cui puntano sulla libertà di impresa economica eccetera creano delle ingiustizie sociali e lì nascono gli eroi che protestano per la difesa dei diritti sociali civili e di giustizia gli stati invece che puntano molto alla giustizia ovviamente devono ridurre il principio della libertà pensate cosa è stato il comunismo in Russia che tentava almeno all'inizio di dare delle giustizie sociali ma poi era costretto a togliere le libertà e lì gli eroi sono quelli che si sono ribellati in nome della libertà oggi nel nostro sistema chi sono gli eroi sono quelli che puntano a difendere la libertà di parola perché noi viviamo in una società in cui il diritto alla libertà di parola è stato ridotto al minimo noi siamo un paese addirittura al cinquantottesimo posto di libertà di parola quindi sono quelli che in un contesto difficile in cui dire la verità è sempre ostacolato è sempre difficile gli eroi secondo me sono i giornalisti che spesso pagano con la loro vita ma cercano di dare un'informazione giusta per me quelli sono gli eroi c'è un'ultimissima domanda la batte Enzo vieni qua promosso promosso veramente una cosa al volo mi ha colpito tantissimo tutta la serata che Vincenzo quando parla del papà Giuliano una cosa quasi impersonale non hai mai detto papà hai detto Giuliano come ci riesci a dire Giuliano e non papà come hai fatto io non lo farei mai allora sì sì andavamo pure discusso di questo infatti ma è nato così perché io quando a scuola durante un'assemblea di istituti i ragazzi mi chiesero di parlare delle vicende legate alla storia appunto di Giuliano mio padre io non vogli dire che era mio padre per non condizionarli perché giustamente i ragazzi vivevano in maniera indiretta più partecipata quindi ho voluto rappresentare questa storia in maniera un po' neutrale infatti lo dissi solo alla fine che ero che io ero il figlio di Giuliano e ho fatto la stessa cosa nel libro ma non per prendere distanza ci mancherebbe altro ma proprio perché volevo che la storia la vicenda venisse vista in maniera più oggettiva e non attraverso diciamo la figura del figlio che cerchi non so se ci sono riuscito però l'intenzione era semplicemente questa per rendere in maniera più oggettiva il racconto e quindi anche le vicende che lo hanno coinvolto in tutto il periodo di cui abbiamo parlato era semplicemente per questo anzi tra l'altro chiamo i Tatoz va bene allora c'è il buffet un annuncio domani sera alle 18.30 nella sala consigliare c'è Pierino Belmond e c'è Anna Cerabuono non so se è andata via verrà proiettato un video sul viaggio che è stato fatto da loro due più Giuseppe e Chiarillo con diciamo Lampi che è stata coinvolta in questa iniziativa loro sono stati in Germania e in Polonia a visitare dei nostri concittadini caduti durante la seconda guerra mondiale adesso c'è l'impegno da parte dell'Ampi e delle loro persone direttamente affinché le spoglie di questi nostri tre cittadini vengano portati ad Accettura e trovano riposo nel cimitero comunale quindi diciamo c'è questo racconto che riguarda appunto persone molto vicine a noi quindi vi invito a partecipare dopodiché vi ringrazio tantissimo per l'attenzione se siete stati così attenti e partecipativi e ne siamo veramente contenti e vi auguro a chi non l'ha letto una buona lettura grazie era la figlia di Mario che era un compagno di scuola di Giuliano quindi fa parte anche di questa storia erano molte amici anche se poi hanno attraversato percorsi politici un po' diversi ma è rimasto quel rispetto e quella stima profonda fino agli ultimi loro giorni di vita grazie Rachele grazie